Sono numerose le problematiche riscontrate a Teramo nell'attivazione dei contratti relativi alla fibra ottica dopo i lavori fatti in città. A denunciare la vicenda l'Associazione dei consumatori Robin Hood a seguito delle diverse segnalazioni fatte da cittadini e attività che hanno sottoscritto da tempo contratti senza avere il servizio richiesto. Ma non solo, perché come denuncia l'Associazione, molti utenti che si sono ritrovati a non avere il servizio nonostante i contratti sottoscritti hanno dovuto fare i conti con la contestuale sospensione del servizio ADSL, restando così senza linea con danni gravi all'attività e disagi per chi deve lavorare da casa. Ora il problema è che questa fibra non arriva, ovvero si aspettano 30-60 giorni ma il collegamento della fibra non viene effettuato, si parla di non disponibilità, di altre cose. L'aspetto grave è quello che invece sta accadendo adesso, perché fin tanto che uno non entra in una fibra, continua a navigare con l'ADSL, continua a lavorare, non è cambiato nulla, si hanno diritto degli internizi per il ritardo dell'attuazione del contratto, amen. Invece adesso sta capitando che vengono distaccate le utenze ADSL, per cui i privati che lavorano magari da casa o che hanno ragazzi che studiano e quindi devono studiare a distanza o le attività normali si ritrovano senza la possibilità di avere un collegamento veloce con internet. Quindi questo è l'aspetto drammatico e l'aspetto sul quale noi abbiamo avviato una segnalazione all'autorità per il mezzo del Corrego Mabruzzo, l'autorità delle comunicazioni, perché chiaramente è un grosso disservizio per i cittadini. Oltre al danno alla beffa, visto e considerate che ci sono anche alcuni utenti che nonostante non abbiano ancora ricevuto il servizio, sono state recapitate delle bollette? Sì, perché poi contrattualmente il servizio sotto un profilo teorico attivo e quindi iniziano ad arrivare le bollette. Sì, certo, al danno anche la beffa di dover pagare delle bollette in attesa di questa benetta fibra.